Non vi preoccupate se sentite rumori alle mie spalle. Ho chiuso le doppie finestre nella stanza dove sto registrando ma ho lasciato la porta aperta perché fa molto caldo. Fuori c'è una situazione un po' particolare, c'è un camion gigantesco che porta le bombole messo in mezzo alla strada perché qua c'è un negozio che vende bombole. E un altro camion gigantesco che è il camion frigo che porta ogni mattina le cose al supermercato che cerca di passare e quindi stanno gestendosi questa situazione. Se sentite improvvisamente i rumori di clacson e gente che grida, beh sono loro. Oggi devo parlare con voi di una cosa diciamo metaproduttiva nel senso che devo parlarvi di questo mio podcast che ormai faccio da 273 giorni cioè dal 4 di gennaio. Si avvicina il periodo in cui compirà un anno e io mi sto domandando che fare di questo podcast perché non è che avessi voglia di continuarlo all'infinito quando ho iniziato. Voleva essere un esperimento per vedere un po' l'effetto che fa, mettersi davanti al microfono senza essersi preparati niente e parlare poi senza fare l'editing. E come vi ho già detto diverse volte la registrazione dura esattamente tre minuti appunto perché non mi preparo niente, non faccio editing però la lavorazione poi del podcast quindi il caricamento sulle varie piattaforme, la traduzione in inglese e prima ancora della traduzione la trascrizione dei tre minuti e impiego un bel po' di tempo. Quindi non so quanto continuerò allo scadere dell'anno però mi dispiace perdere completamente la mia presenza quotidiana in questo spazio perché è divertente. Poi ci sono alcuni affezionati ascoltatori voi sapete chi siete ascoltatori e ascoltatrici e quindi sto meditando cosa fare allo scadere dell'anno e probabilmente trasformerò i tre minuti grezzi in qualcosa di settimanale perché tenere questo ritmo non ce la faccio veramente mi prende troppo tempo. E potrei fare qualcosa di settimanale che anziché essere spontaneo e non preparato potrebbe essere invece qualcosa di super elaborato magari sempre tre minuti e passare dai tre minuti grezzi giornalieri a tre minuti super raffinati super preparati settimanali. Ci sto pensando se vi viene qualche idea voi che siete amici e che mi conoscete personalmente che avete anche il mio indirizzo email e i miei vari contatti sui media sociali fatemelo sapere mandatemi un messaggio e ditemi cosa ne pensate ci pensiamo insieme ancora abbiamo un paio di mesi per decidere e facciamo le cose insieme in modo ecumenico.